A questa edizione di Climhouse presentiamo il nostro Self-Tenet Terra System, un sistema innovativo che permette di impermeabilizzare pavimentazioni di terrazze nuove, quindi su massetto oppure già esistenti, senza la necessità di demolire e di conferire in discarica. È un sistema innovativo che permette di risparmiare circa la metà del tempo di posa rispetto alle impermeabilizzazioni tradizionali fatte con i prodotti liquidi. Oltre all'impermeabilizzante riusciamo a proporre il sistema completo che prevede l'adesivo per le piastrelle in classe S1 e lo stucco epossidico di nuova generazione, che si chiama Fugo Pox Color AB, che permette una facilità di posa e soprattutto una facilità di pulizia totalmente nuova rispetto agli epossidici tradizionali.